di parlare il senatore Pittoni, ne ha facoltà per cinque minuti. Grazie Presidente. Richiamo l'attenzione su alcuni passaggi degli impegni sull'istruzione previsti dal contratto del primo governo di questa legislatura che diceva in questi anni le riforme che hanno coinvolto il mondo della scuola si sono mostrate insufficienti e spesso inadeguate. Una delle componenti essenziali per il corretto funzionamento del sistema di istruzione è rappresentata dal personale scolastico. L'eccessiva precarizzazione e la continua frustrazione delle aspettative dei nostri insegnanti rappresentano punti fondamentali da affrontare per una reale riancio della nostra scuola. Sarà necessario assicurare pertanto anche attraverso una fase transitoria una revisione del sistema di reclutamento dei docenti per garantire da un lato il superamento delle criticità che in questi anni hanno condotto a un cronico precariato e dall'altro un efficace sistema di formazione come lega sulla scuola e questa è la battaglia che abbiamo avviato aprendo anche una sana collaborazione tra scuole statali e paritarie se non altro perché queste ultime dispongono degli spazi che nell'attuale stato d'emergenza a volte mancano alle statali. Riteniamo che l'utilizzo delle risorse del Recovery Fund per l'istruzione debba avere l'ambizione di contribuire in misura determinante alla formazione dei nostri ragazzi assicurando servizi omogenei, efficienti e di qualità sull'intero territorio nazionale. A tal fine le risorse andrebbero destinate in primo luogo a garantire un organico docente adeguato così da assicurarsi una valutazione positiva come esplicitato nelle linee guida laddove si privilegia la creazione di beni pubblici tra cui si citano l'educazione e la formazione. La risposta quindi non possono essere concorsi per i quali non ci sono i tempi tecnici e troppo sbilanciati sulla conoscenza per semplificare la memoria rispetto alla competenza, l'esperienza contravenendo all'impegno della fase transitoria del superamento del precariato cronico. Vogliamo davvero iniziare il prossimo anno scolastico con tutti gli insegnanti al loro posto tornando a garantire quello che è un diritto degli studenti? Occorre stabilizzare non meno di 120.000 docenti Gli insegnanti precari sono figure alle quali lo Stato dà fiducia da 5, 10, 15, 20 anni sempre rimandando nell'assunzione definitiva i motivi si possono immaginare. Persa l'occasione dell'anno in corso abbiamo pronto una proposta normativa intesa a mettere ordine nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze al momento gravate da una quantità di errori materiali e non che ne compromettono la solidità giuridica poiché è da tali graduatorie che si dovrà tingere per il reclutamento a tempo indeterminato è opportuno, onde evitare complessi e destrenanti contenziosi, renderle quanto più aderenti alle singole situazioni giuridiche in ossequio al dettato costituzionale sul necessario buon andamento della pubblica amministrazione. Piace o meno, in questa fase le assunzioni per titoli e servizio sono un percorso obbligato sempre che, ancora nel pieno della più grave crisi nella storia della Repubblica non si intende iniziare senza insegnanti pure il prossimo anno scolastico. C'è un altro tema che ci sta a cuore la cultura cultura e il suo indotto arrivano a generare il 17% del PIL dovrebbe bastare questo per mettere al centro del progetto di ripartenza del Paese non si tratta solo di posti di lavoro la cultura è molto di più sono le nostre radici ciò che unisce l'Italia è un mosaico di differenze che il mondo ci invidia una meravigliosa sintesi di genialità e creatività promuoviamo allora i tanti luoghi ancora non inseriti nei grandi attrattori culturali valorizziamo in modo rispettoso ed ecosostenibile i cammini che attraversano il Paese e lo raccontano tuteliamo i lavoratori dello spettacolo piegati da una crisi pandemica che li ha colpiti con particolare durezza sono stati i primi a chiudere e saranno probabilmente gli ultimi a ripartire per un Paese come l'Italia sarebbe un grave errore non occuparsene la cultura è il primo grande presidio sociale salda le comunità non possiamo perdere la miriade di compagnie teatrali artisti e musicisti che costituiscono il tessuto da cui nascono le grandi opere che ci rappresentano nel mondo va tutelata la cultura del made in Italy nel design e nella moda le tante piccole e medie aziende del settore nel mirino di fondi stranieri in cerca dell'affare impegniamo quanto serve per l'audiovisivo grande attrattore moltiplicatore di investimenti promuoviamo attraverso l'Ice la nostra musica nel mondo abbiamo apprezzato Presidente il suo passaggio sulla tutela del patrimonio culturale dai cambiamenti climatici tema che la Lega in più sedi ha promosso in diverse occasioni e anche in una mozione parlamentare la cultura può davvero fare ripartire il Paese non perdiamo questa opportunità grazie per l'attenzione ha chiesto di parlare